Un grande bucato da stirare? Oh! Ecco Stirella, il soffiavapore. Stirella, un ferro da stiro collegato ad un serbatoio di vapore. Dalla tua Stirella esce un bel vapore costante. Ad unica temperatura, Stirella stira tutti i tessuti, anche i più difficili, anche in verticale, e non esistono problemi di calcare. Stirella, il soffiavapore, soffia. E tutto è bello, senza fatica. Stirella Micropax, anche nella versione valigetta. Ieri si stirava, oggi si stirella.